Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlight Books. Come avete potuto evincere dal banner di inizio video, oggi nuovo review party dedicato al terzo romanzo della serie Titan di Jennifer Larmentrout, ovvero La Lotta. Per chi non lo sapesse, la serie Titan è una serie spin-off della serie Covenant, che ha come protagonista Seth, che era appunto il terzo protagonista della serie Covenant, ed è iniziata con Il Ritorno e Il Potere, che è il secondo, che sono uno più bello dell'altro. Questo romanzo, questo terzo capitolo, terzo capitolo su 4 o 5, adesso non mi ricordo bene, dovrebbero essere 4, comunque questo dovrebbe essere il penultimo, se non mi ricordo male, davvero ha riservato moltissime sorprese. Mi accingo a leggervi la trama. La guerra contro i titani non è ancora finita. Hanno perso una battaglia, ma si stanno riorganizzando e presto cercheranno nuovamente di penetrare nell'Olimpo e di mettere a ferro e fuoco il mondo. È stato solo per merito di Seth e dei suoi nuovi immensi poteri, se il loro piano è fallito. Eppure nessuno riesce a credere che sia davvero cambiato, e tutti lo temono. Tutti, tranne la donna che potrebbe essere la sua ultima possibilità di salvezza. Joyce è disposta a fare qualunque cosa per dimostrare che ora Seth sta dalla parte del bene, ma a volte il destino agisce in modo imprescrutabile per cambiare le vite e le persone, e non sempre si tratta di un modo piacevole. Così, per salvare se stessi e il futuro dell'umanità, ai due ragazzi non rimane che affrontare l'ignoto insieme. Ma la fiducia e la lealtà non bastano più, servono l'amore e un'incrollabile forza d'animo. E in qualunque modo andrà a finire, le loro vite non saranno più le stesse, perché ciò che gli dei temevano è diventato realtà. La fine del vecchio mondo ormai è vicina e una nuova era sta per iniziare. Questo terzo romanzo riprende esattamente da dove si era concluso il potere, ovvero che i nostri impavidi eroi hanno vinto la battaglia contro uno dei titani, ovvero Atlante, e Paul Seth si è risvegliato apparentemente come lo sterminatore di dei. Cosa alquanto strana, perché comunque lo sterminatore di dei era stata Alex ai tempi dell'ultimo capitolo della serie Covenant. Quindi diciamo che c'è un po' di confusione e il ragazzo appunto ha paura di fare del male, soprattutto a Josie, perché vi ricordo che se non avete seguito la serie Covenant vi invito a recuperarla. Lui era diventato dipendente dall'Etere per paura di prendere senza permesso l'Etere sia di Josie che comunque di tutti gli altri decide di andarsene dopo aver passato un'ultima notte di passione con Josie. Devo mettere che il rapporto fra Seth e Josie è veramente molto bello, soprattutto in questo terzo romanzo si evolve ancora di più, perché appunto la chimica tra loro era sempre stata immediata, però qui abbiamo veramente la dimostrazione che Seth è davvero cambiato, perché tutti appunto hanno paura che lui possa tornare diciamo al lato oscuro, perché vi ricordo che appunto nella serie Covenant, manipolato da Lucene e da Raries, Seth ne aveva combinate di ogni, però diciamo che era anche un po' manipolato, invece qui in questo caso ha trovato finalmente la persona per cui vale la pena combattere, una persona per cui vale la pena anche morire e diciamo che vale anche la pena distruggere il mondo, perché Seth diciamo che per proteggere Josie se ne sbatte altamente anche del mondo intero, per lui conta soltanto lei, questa diciamo che è veramente la prova che stavolta Seth è davvero innamorato ed è davvero cambiato, perché prima non gli importava di niente di nessuno tranne che di se stesso e forse di Alex, con cui diciamo è quella con cui ha il legame più forte rispetto agli altri dopo Josie. Seth appunto, come ho detto, è un personaggio che questa serie mi ha davvero risollevato, perché veramente già nell'ultimo capitolo della serie Covenant mi aveva fatto un'ottima impressione, ma qui davvero mi si è risollevato tanto, perché nel terzo e quarto libro, forse non mi ricordo bene, della serie Covenant avrei voluto veramente prenderlo a sberle, a scappellotti potenti alla Gibbs, però in questa serie davvero mi ha stupito, mi ha stupito davvero, non potrò mai battere Aiden perché Aiden nella serie Covenant davvero mi ha fatto innamorare di lui, ma devo ammettere che anche Seth si è conquistato un bel posticino nel mio cuore, così come se ne ha conquistato Josie, Josie veramente è l'amore puro, Josie è l'unica che crede veramente nell'uomo che ama, crede veramente che sia cambiato, ha fiducia in lui, è pronta a mollare tutto per andarlo a cercare nelle isole in cui è cresciuto e qui appunto scopriamo che Seth non è proprio diventato lo sterminatore di dèi, ma è diventato un dio vero e proprio e questo diciamo che agli dèi fa venire un po' la cagazza perché non possono più ucciderlo, l'accordo che aveva fatto con gli dèi per salvare Alex Aiden è saltato e quindi diciamo che adesso le carte in tavola sono state rimescolate. devo ammettere che questo romanzo è stato molto più action, è proprio una lotta continua cioè il titolo proprio ci sta perfettamente perché poi ci sono momenti anche di angoscia a un certo punto veramente starete male per uno dei protagonisti sul serio, i titani sono veramente dei grandissimi figli androcchia ragazzi, ma una roba allucinante soprattutto imperione che ha un conto in sospeso sia con Apollo che con Seth, vediamo appunto l'evolversi ancora del rapporto fra Seth e Josie, li vediamo effettivamente concretizzare i loro rapporti, i loro sentimenti, accettarli, viverli per quelli che sono, veramente la loro storia d'amore è anche un poco più intensa secondo me di quella tra Alex e Aiden, oppure a pari passo perché davvero anche qua l'Armen Trout ha creato una storia d'amore veramente potente, veramente coinvolgente di due persone, due ragazzi che si sono trovati anime gemelle che sono risposte a rischiare il tutto per tutto per stare insieme e per l'uno per l'altra. Poi vabbè ci saranno anche tutti gli altri personaggi, avremo sempre Dico nel look, ci sarà anche Apollo che veramente qui avrei voluto prendere un momentino lui a scappellotti alla Gibson perché davvero io non lo so veramente come ragiona ma in questo libro sembra veramente insensibile nei confronti della figlia, è come se la tenesse a distanza ed è una cosa veramente che non comprendo, io so che c'è un motivo ma staremo a vedere nel prossimo libro che non so se è l'ultimo perché ho controllato ma adesso ho un lapsus di memoria tremendo, lo sapete che la mia memoria è pari a questo tavolo, vedremo appunto altri personaggi, comunque ci sarà tutta una vecchia combicola e veramente questo libro è una lotta continua, poi veramente l'Armentraut ha uno stile fantastico, cioè questi libri si divorono, io l'ho finito in due giorni e poi stavo male perché comunque vi avviso che il finale è da cliffhanger però non è un cliffhanger diciamo troppo spacca cervello ecco nel senso che comunque ti lascia col fiato sospeso ma non tanto da strapparti i capelli anche perché comunque da quello che so l'Harper Collins o almeno spero, se guardate questo video vi prego ascoltate la mia preghiera, non dovrebbe farci attendere tanto per il prossimo capitolo anche perché dovrebbe essere o l'ultimo o il penultimo comunque siamo agli sgocci, non penso che siano più di cinque libri questa serie, quindi vi prego Harper Collins fate uscire in seguito alla svelta perché comunque il finale lascia parecchio in sospeso perché adesso comunque Seth compie un'azione che rimescono un'altra volta le carte in tavola e so cazzi insomma, ecco le tarone papale papale sono abbastanza cazzi perché adesso bisognerà convivere con le conseguenze di quest'azione e quindi staremo a vedere ragazzi, io gli do un bel quattro stelle e mezzo pieno a questo romanzo perché davvero mi ha saputo coinvolgere, mi ha saputo emozionare, mi ha saputo intrattenere, mi ha saputo stare anche, far stare col fiato sospeso, è un terzo capitolo veramente degno di questa serie. Il primo e il secondo erano belli ma questo ha una marcia in più per quanto mi riguarda perché appunto c'è molta più azione, c'è molta più caratterizzazione dei personaggi, abbiamo risposte ai nuovi quesiti che spero si risolveranno nei prossimi o nel prossimo libro della serie, abbiamo enigmi, abbiamo ansia, abbiamo angoscia, abbiamo paura ma abbiamo anche tante emozioni, veramente la zia Jenny non sbaglia mai un colpo per quanto mi riguarda soprattutto con questa serie. Bene, anche questa recensione si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta, come sempre vi ricordo che nel link del blog e nell'info box trovate tutte le info riguardanti questo libro, prezzo, trama, numero di pagine, casa editrice, tutto quello che vi serve per potervi fare un'idea. Io ringrazio tantissimo HarperCollins Italia per la copia digitale del romanzo in anteprima e ringrazio Sylvie Aarondale per aver organizzato tutto e averci di nuovo coinvolti. Come abbiamo detto, squadra che vince non si cambia perché se andate a vedere sul canale oppure nelle schede, nelle schermate finali, vedrete che abbiamo fatto i review party anche dei due precedenti libri, così se volete appunto anche farvi un'idea di questi libri potete vedere le recensioni e magari incuriosirvi. Sul blog e anche sul canale, adesso non mi ricordo quanti erano sul canale, comunque sul blog le trovate sicuro, troverete anche le recensioni della serie Covenant, così se volete anche incuriosirvi con la serie, diciamo la serie madre, potete farlo. Nell'info box trovate anche le mie info di Facebook, Twitter e Instagram, avete a trovarmi, seguitemi, mettetemi like che mi fate tanto tanto contenta. Iscrivetevi al canale al blog se l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e se vi va lasciatemi un bel like e condividete il video se vi è piaciuto. Vi mando un bacione enorme e ci vediamo al prossimo video e alla prossima recensione. Ciao a tutti!